Prima corsa notturna venerdì 12 luglio del servizio di trasporto turistico che collegherà tutte le sere le frazioni marine di Castellabate, San Marco e Santa Maria con il centro storico per agevolare la visita di uno dei borghi più belli d'Italia. La navetta permetterà di evitare l'utilizzo di mezzi propri e la ricerca di un parcheggio nel centro antico. Il servizio è stato promosso dal comune di Castellabate ed è a cura della società di trasporti locale SMEC. Due le corse effettuate, la prima con partenza da Piazza Meola a San Marco alle 21.20, fermata in Piazza Lucia a Santa Maria alle 21.30 e arrivo a Castellabate presso l'incrocio Beato Simeone previsto per le 21.45. Il secondo viaggio prevede la partenza da San Marco alle 22.10, una tappa a Santa Maria alle 23.45 e l'arrivo nel centro storico alle 23.55. Per il rientro da Castellabate e incrocio Beato Simeone, la prima partenza è prevista alle 21.45, la seconda alle 23.55. Il servizio rimarrà attivo ad esclusione del 14, 15 e 16 agosto, tutte le sere fino al 31 agosto. Ritorna il servizio di trasporto by night che agevola gli spostamenti e che incentiva a raggiungere il nostro meraviglioso centro storico, dichiara l'assessore al turismo e alla cultura Luisa Maiuri. Meta obbligatoria per i turisti che intendono scoprire il borgo con il suo sapore medievale, per godere del panorama sulla costa o per una visita al Castello dell'Abbate, sede espositiva di arte contemporanea e palcoscenico di numerose manifestazioni di qualità.